Ed è bello che come il rap fa da sfondo le storie di oggi, nel mondo cinematografico finalmente qualcuno ha inserito un sottofondo che rispecchia i giorni di oggi, perché molte commedie italiane veramente sembrano ambientate ancora anni 50, 60, vieni a prendere il latte. Hip Hop TV, solo su Sky, canale 720.